e 14 più 21 35 molto bene prato trova l'anagramma porta almeno non ti lascia fuori sotto la pioggia ciao ciao sono io apri solo se mi dici il giorno di giocare giocando si impara con i computer kid clementoni 35 attività parole numeri geografia musica e persino l'inglese anche lei sa mica come si dice neve in inglese